buongiornissimo raga allora devo dire che andare a dormire presto ieri è stata un'ottima idea perché uno stamattina mi sono svegliata super riposata e due mi sono svegliata ad un orario decente il che non succedeva da molto tempo quindi è fantastico in più mi sono un attimino preparata perché dopo pranzo e poi io andremo in centro perché devo spendere dei buoni da Bershka e da Zara di cui tra l'altro mi ero totalmente dimenticata li ho ritrovati poi nel portafoglio ieri sera e poi andremo a far stringere la cintura che mi ha regalato il compleanno di modo che io finalmente possa iniziare ad utilizzarla in più non so se oggi o comunque nei prossimi giorni voglio concludere il progetto che ho per le mie orecchie e fare gli ultimi due buchi per collegare l'elix al quarto buco dell'orecchio destro questo progetto ce l'ho in mente circa da un annetto un annetto e mezzo forse e non vedo l'ora di finirlo